buongiorno benvenuti alla focus tg oggi è l'ultimo giorno dell'anno questo è il nostro ultimo focus tg di un 2020 che ha portato tante notizie anche troppe secondo qualcuno e oggi lo sapete non ci sarà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia che ieri ha già fatto gli auguri ai telespettatori quindi parleremo del Veneto parleremo delle notizie che arrivano dalla nostra regione naturalmente la parte di Leone la farà come sempre la situazione legata all'emergenza coronavirus perché tra tamponi rapidi vaccini dati che continuano a essere comunque preoccupanti sotto il versante della diffusione perché sappiamo che la sanità comunque sta reggendo almeno in questi ultimi giorni in modo notevole all'urto di questa di questa ondata di notizie ce ne sono di ogni genere dal Veneto sentiremo i nostri giornalisti in collegamento Skype per capire cosa succede a Padova cosa succede a Vicenza dovremmo riuscire avere anche un piccolo focus sul meteo perché dopo questa finestra di un giorno o due di tempo relativamente buono anche se parte della provincia di Vicenza e del Veneto hanno fatto i conti questa mattina con una forte nebbia e temperature prossime allo zero quindi con qualche rischio soprattutto per chi si è messo in strada dovremmo riuscire a parlare anche di meteo notizia ma la sappiamo tutti siamo tornati in zona rossa dopo qualche giorno in in arancione da oggi fino all'epifania tutto tutto in zona rossa tranne lo sappiamo il giorno di lunedì 4 che sarà ancora arancione cambia non cambia moltissimo cambiano alcune cose soprattutto riguardanti gli risultamenti quello che non cambia è l'attenzione che dobbiamo porre in ogni momento verso le precauzioni da mettere in atto per evitare di tornare indietro di qualche mese di qualche settimana con i dati sul coronavirus allora questo era un po' un preambolo da Roma ci arriva un'ansa proprio di pochissimi istanti fa e recita così sicuramente i mezzi che la struttura commissariale metterà a disposizione insieme ai mezzi delle ASL renderanno la campagna vaccinale un successo dal punto di vista organizzativo sono stati formalizzati i punti vaccinali ospedalieri e le unità mobili per vaccinare gli anziani le LRSA ora stiamo studiando i punti vaccinali per la popolazione per la vaccinazione di massa ciò dipenderà anche dai vaccini che si rendono disponibili ci vuole rigore e flessibilità rigore e flessibilità al contempo lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della salute sull'analisi dei dati epidemiologici quindi questa novità, questo arrivo di un vaccino sta mettendo sulla giusta strada sembra tutta questa situazione sommata alla possibilità adesso che faranno i tamponi rapidi anche le farmacie di avere quindi un risultato sul proprio stato in tempi davvero rapidissimi quindi si dovrebbe cominciare ad avere almeno qualche certezza, qualche dubbio in meno su quello che possiamo e non possiamo fare su quello che succederà nelle prossime settimane questa era la prima ansia importante di giornata e allora facciamo un po' di il cosiddetto riassunto delle puntate precedenti ieri nell'ultima conferenza stampa disponibile il presidente Zaia ha parlato assieme al capo della sanità Flor soprattutto dell'arrivo delle dosi del vaccino di quello che dovremo fare da qui alle prossime settimane sentiamo che cosa hanno detto sono atterrate all'aeroporto di Venezia e poi distribuite in tutto il Veneto altre 45.360 dosi di vaccino nei prossimi giorni riparte la campagna vaccinale per il personale sanitario intanto dati alla mano il presidente Zaia ha spiegato che nella nostra regione l'incidenza dei positivi è del 5,7 mentre la media nazionale al 27 dicembre era del 12,48 a onor del vero ma non voglio che lo prendiate come un dato positivo noi stiamo osservando da qualche giorno da più di qualche giorno una diminuzione di incidenza dei positivi poi Luciano Flor direttore regionale della sanità ha dato una buona notizia c'è anche una buona notizia perché sapete che da ogni flacone noi estravavamo 5 vaccini è arrivata la circolare ministeriale da prossime vaccinazioni ne utilizzeremo 6 il che vuol dire che grazie a questo il numero di 185.000 unità di vaccino sale a 222.000 unità ma soprattutto avendo più vaccini a disposizione a parità di consegne i tempi di vaccinazione si abbattono significativamente e quindi i tempi di copertura vaccinale nella categoria della fase 1 fra pochi giorni fra l'altro il governo dividerà nuovamente le regioni per fasce per il Veneto non ve lo so dire, capite che comunque il passaggio di zona a parte il fatto che se ci dovesse essere un passaggio di zona adesso di fatto viene assorbito dalle restrizioni che ci sono quindi forse resta un margine di 3-4 giorni per fare le famose due settimane rimane fermo il dato fondamentale dell'R con T sopra l'1,25 altro tema caldo la scuola che dice Zaia è un elemento di grande variabilità dell'infezione noi tifiamo perché la scuola sia in presenza 100% ma bisogna essere anche obiettivi sono mesi cruciali che sono quelli diciamo di gennaio, febbraio delle vaccinazioni e valuteremo guarda io al dottor Frollo ho già detto che faccia un'analisi ne abbiamo parlato con l'assessore con la prevenzione per capire quale sarà la misura migliore per l'apertura delle scuole oggi non ve lo so dire poi la questione politica sul governo Zaia non ha mezzi termini penso che se questo governo non ha più la fiducia in Parlamento si deve andare a votare appunto che diventa anche sanificatorio in un momento in cui si parla tanto di sanità quindi queste erano le ultime parole di Zaia che ve lo diciamo in anteprima sarà questa sera a Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli per i saluti di fine anno quindi al termine della nostra informazione questa sera ci sarà un messaggio in esclusiva una lunga intervista in esclusiva al Presidente Zaia che riproporremo anche domani nella fascia di pranzo quindi oltre a tutto quello che ha detto in queste ore e nei giorni scorsi avremo anche un po' il punto su questo 2020 molto particolare anche dall'osservatorio privilegiato della Regione con le parole, ripeto, in esclusiva del Presidente Zaia allora questo era quello che è stato detto una delle più importanti novità delle ultime ore è quella che riguarda le farmacie quindi come si stanno organizzando i farmacisti le farmacie proprio per poter fare i tamponi rapidi sappiamo che molte farmacie hanno aderito qualcun altro non riuscirà ad aderire per mancanza di spazio, di personale insomma la cosa non è semplicissima da fare noi abbiamo già trovato una farmacia a Bassano del Grappa che farà questo servizio ecco cosa ci hanno detto dopo l'accordo con la Regione le farmacie che hanno aderito all'iniziativa si stanno organizzando per iniziare a fare i tamponi test rapidi o sierologico basterà prendere appuntamento non serve la ricetta ma attenzione perché è vietato presentarsi a fare l'esame con sintomi riconducibili al Covid oppure se si è entrati in contatto stretto con un soggetto positivo se non si rientra in questa casistica si potrà effettuare il test direttamente in farmacia l'obiettivo di questo servizio è di alleggerire l'ospedale e dare la possibilità a più persone anche più fragili ricordiamo che la farmacia è capillare sul territorio e anche conosce bene i suoi pazienti, utenti, clienti l'esito del tampone verrà poi inserito nel portale regionale in questo modo verrà garantito il tracciamento se il tampone rapido risulterà positivo bisognerà recarsi dal proprio medico per effettuare il tampone molecolare il servizio è strutturato con delle infermiere esattamente come in ospedale cioè il farmacista offre il servizio ma l'operatore sarà un'infermiera secondo i protocolli le farmacie che offriranno il servizio dovranno rispettare degli standard di sicurezza in termini di spazi dove si eseguono i test Covid ed assicurare la sanificazione dei locali ma potranno essere attivati anche degli spazi esterni abbiamo organizzato una tensostruttura esterna per poter garantire ulteriormente la sicurezza nei protocolli ci sarebbe possibilità anche di farlo all'interno ma in una farmacia diventerebbe molto complicato il costo per effettuare il tampone in farmacia secondo l'accordo regionale è di 26 euro quindi queste sono già le dinamiche delle farmacie che sono già pronte per attivare questo importante servizio che sommato ai punti tampone ufficiali a quelli messi a disposizione dei medici dai vari comuni rappresenta l'artiglieria pesante come diceva Luca Zaia sempre dal punto di vista del controllo dei dati poi invece l'offensiva d'inverno chiamiamola così è già cominciata con le prime vaccinazioni e continuerà fino almeno per qualche mese si parla almeno fino a settembre per poter raggiungere la quota base indispensabile per l'immunità di greggio di cui però parleremo fra poco adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria state con noi torniamo fra pochissimo buongiorno bentornati al nostro Focus TG l'ultimo Focus TG di questo 2020 ma non temete torniamo già subito domani e ogni giorno per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto abbiamo parlato di vaccini adesso dovremmo riuscire a metterli da parte per qualche istante per fare un po' il punto sulla situazione del meteo abbiamo visto tutti in Veneto da Rovigo fino alle vette delle Dolomiti che cos'è successo nei giorni scorsi quanta neve è caduta quanto ghiaccio c'è stato anche nelle parti meno esposte di solito a questo problema della nostra regione strade in tilt qualche disagio poi sfumato con l'arrivo delle temperature più calde in molte zone e invece disagi anche se qualcuno non li chiama così li chiama spettacoli della natura in molte altre zone soprattutto dall'altopiano dei sette comuni in su con le nevicate imponenti dei giorni scorsi che hanno trasformato il paesaggio in una vera cartolina ma la cartolina ce la può far vedere anche il Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa nostro caro amico che abbiamo qui oggi per l'ultimo collegamento del 2020 un 2020 che ci ha portato moltissime notizie non tutte piacevoli dal punto di vista del meteo che ha portato imponenti piogge nevicate importanti come non si vedeva da tempo caldo fuori stagione insomma un anno un po' un po' matto come tutti gli anni bisestili è vero Nicola se lo confermi? Sì ciao a tutti ciao Ferdinando confermo appunto quello che dicevi un 2020 che si sta concludendo in maniera veramente a no ma la siamo passati da un inizio anno secco e sopra media ad un fine anno con neve abbondante su tutti i fondovalle quindi compresa la Val Sugana una spruzzata di neve è riuscita a cadere anche nel Bassanese nelle vicine pianure quindi direi un 2020 che si concluda all'opposto di come appunto era iniziato Nicola mentre tu parli noi facciamo vedere ai nostri telespettatori qualche immagine delle nevicate che si sono viste in questi in questi giorni per esempio stavamo vedendo Gallio sappiamo che vi siete divertiti parecchio voi nivofili nelle scorse giornate a andare in giro fra Grappa Solano e Alto Piano dei Sette Comuni a vedere la neve è vero che non se ne vedeva così tanta da un bel po' in questo periodo? diciamo che a quote così basse e in maniera così repentina effettivamente era qualche anno che non se ne vedeva tuttavia basta andare indietro di 4-5 anni quando comunque le nevicate anche in Val Sugana superavano abbomantemente al mezzo metro non ricordo addirittura mi sembra circa una decina 10-12 anni fa quando addirittura da Cismona in su quindi in Val Sugana comunque a quota bassa perché parliamo di quoti intorno ai 200-300 metri eravamo quasi ad un metro di neve arrivati quindi sì sono cose che sono già successe però ovviamente stante gli ultimi anni ed a come eravamo abituati è chiaro che la sorpresa è una sorpresa che non ci si aspetta più allora Nicolas dobbiamo aspettarci altre sorprese nelle prossime ore nei prossimi giorni diciamo che oggi come potete vedere tutti quanti la giornata è l'insegna del cielo sereno c'è qualche nube sparsa però veramente poca cosa oggi infatti questa sarà la situazione con temperature tra l'altro anche gradevoli al sole siamo già intorno ai 7-8 gradi questa notte dovrebbe peggiorare e domani e poi sicuramente il primo e anche il 2 di gennaio 2021 saranno giorni di maltempo tra l'altro un maltempo a stampo freddo con occasione per nuove nevicate domani inizialmente anche a quota basse o molto basse anche intorno ai 3-400 metri inizialmente poi però quota neve che tenderà ad alzarsi il 2 di gennaio dovrebbe testarsi intorno ai 1.000-1.200 metri attenzione perché appunto sopra queste quote e anche in alcuni fondo valle potrebbero cadere altri centimetri di neve fresca tratti anche abbondanti sopra i 1.000-1.200 metri ci aspettiamo altri 40-50 centimetri di neve fresca quindi un'altra bella botta di neve per le nostre montagne un'altra bella botta di neve che potrebbe aggiungersi adesso non so se lo vedi tu nel nostro nel tuo monitor a quella che è già scesa ad Asiago questa è una webcam di questo momento in centro ad Asiago insomma un Natale capodanno con una neve bella così intensa delle belle giornate come questa è un bel po' che non lo vedevano da quelle parti vero? Sì assolutamente sì soprattutto in alto piano dove ricordiamolo la quota è di 1.000 metri e spesso soprattutto negli ultimi anni i 1.000 metri era una quota bassa veramente troppo bassa per avere la neve perché appunto spesso le perturbazioni erano accompagnate da 20 scirocali e che quindi facevano cadere la neve solo a quote alte o molto alte anche sopra i 1.500 1.800 metri a volte quindi quest'anno fortunatamente scirocco poco abbiamo più libeccio che scirocco libeccio che appunto è un vento sempre meridionale però molto più tiepido rispetto allo scirocco che è veramente un vento caldo che quindi ci rovina i giochi qui sulle nostre montagne quindi sul Marsiccio da Grappe in primis e sull'altro piano di Asiago allora vediamo se riusciamo a trovare una webcam al volo senza rubarti troppo tempo di Cima Grappa che ha una connotazione un po' diversa no è vecchia questa c'è neve su a Cima Grappa adesso? sì ce n'è siamo intorno al metro di neve su a Cima Grappa addirittura bene perché le immagini che vediamo adesso sulle webcam probabilmente sulle webcam bloccate e non c'è tutta la neve che invece si vede in realtà quindi immagino che farete una salita a voi della pagina Meteo Bassano e Piedemontana nei prossimi giorni a dare un'occhiata ancora sì guarda adesso staremo a vedere appunto come sarà la situazione probabilmente ci muoveremo su alcune vallate inizialmente dato che comunque la quota neve sembrerebbe essere almeno inizialmente a quota basse o molto basse poi vedremo sicuramente comunque a fine fenomeni faremo faremo un giro anche su sulle nostre montagne anche appunto per goderci lo spesso manto nevoso che già c'è ma che aumenterà nei prossimi giorni appunto Nicola noi approfittiamo per fare a te tutti i tuoi colleghi un augurio di un buon anno divertente dal punto di vista meteo magari meno impattante di questo con meno fenomeni estremi ma ho idea che dovremmo fare i conti con un clima molto simile a quello che abbiamo visto in questo 2020 ma sì purtroppo Ferdinando come anche tu ben sai ormai il clima veneto è verso sempre più un'estremizzazione di fenomeni insomma con lunghi periodi caldi spesso sopra media e poi magari brevi periodi dove in una settimana 10 giorni ti sgancia la pioggia di un mese o due capito quindi purtroppo i disagi sono inevitabili ecco se così Nicola grazie ancora buona fine come si suol dire buon inizio ci sentiamo i prossimi giorni per le novità del meteo grazie a voi auguroni a te auguroni a tutti quanti mi raccomando seguiteci in pagina lo facciamo già e lo faranno sicuramente molte altre persone torniamo in studio ringraziamo ricraziamo Nicola allora avete sentito un 2020 che ha portato tante notizie non solo nella pagina diciamo del coronavirus ma anche su quella del meteo del maltempo ricordiamo almeno 4 o 5 episodi davvero importanti di piogge piovaschi che hanno causato allagamenti colate di fango il bassanese se le ricorda ancora la provincia di Vicenza è stata colpita da trombe d'aria più o meno di quanto succedeva gli anni scorsi lo sanno solo i meteorologi perché i dati insomma sono sempre in via di valutazione proprio dal meteo ufficiale dell'Arpav arriva in questo momento una previsione per il lungo fine settimana di inizio 2021 allora il centro meteo Arpav di Teolo ci fa sapere che un'ulteriore perturbazione porterà tra venerdì 1 e sabato 2 quindi prossimi due giorni come ci aveva anticipato il nostro Nicola Sparonato precipitazioni diffuse più consistenti sulle zone montane e pedemontane la neve cadrà inizialmente anche a bassa quota ma ci fanno sapere gli esperti non in pianura quindi non dovrebbero esserci fenomeni nevosi in pianura o il tanto temuto gelicidio per poi portarsi attorno agli 800 mille metri sabato sulle prealpi sono dunque ancora previste copiose nevicate sui monti domenica l'evoluzione è ancora incerta ovvio che a tre giorni è difficile sapere che cosa succederà in ogni caso le eventuali precipitazioni dovrebbero risultare di entità assai minore allora ci sono ci sono delle mappe che comunque sono un po' complesse da leggere sappiamo solo che c'è un'area di bassa pressione sul mediterraneo centro occidentale quindi ci riguarda marginalmente ma ci investe ci investe comunque e domani e venerdì scusate domani è sabato quindi qualche qualche problema in più con il con il meteo poi si andrà probabilmente a un miglioramento ancora neve sulle montagne questa è una buona notizia per gli amanti della neve sarà una buona notizia e questa è una domanda anche per gli amanti degli sport invernali questo non lo sappiamo perché si sta parlando da settimane ormai della riapertura degli impianti che gli anni scorsi si trovano di fronte a enormi problemi di di nevamento non c'era abbastanza neve per funzionare tutti gli impianti soprattutto quelli a bassa quota adesso invece di neve ce n'è tantissima lo sci da fondo gli amanti delle ciaspolate sono già in giro perché comunque l'attività motoria è garantita con tutte le precauzioni del caso quindi chi vive o chi è in seconda casa nella zona della topiana di Settecomune o sulle Dolomiti può farsi la passeggiata il giretto e gli atleti possono allenarsi ma lo sci quello da discesa diciamo è ancora al palo si parla di una riapertura si è parlato però sempre da parte del governo di un dilattamento dei tempi quindi di poter andare più in là del 7 gennaio si è già persa la prima parte importantissima della stagione speriamo di non dover parlare di perdite enormi anche su questo su questo campo adesso noi facciamo una brevissima pausa torniamo fra pochissimo state con noi arrivano le notizie da Vicenza buongiorno bentornati al nostro focus TG l'ultimo focus TG del 2020 un 2020 che ci ha portato davvero tantissime notizie tantissime novità non tutte piacevoli se dobbiamo essere sinceri allora fra poco saremo collegati con Vicenza per le ultime notizie dal capologo Berico nel frattempo cominciano a arrivare in redazione alcuni alcuni lanci alcuni di agenzia alcuni di stampa secondo i quali il Veneto potrebbe essere diretto verso un ingresso in zona nancione al termine di queste festività nel quale ricordiamo siamo da oggi fino a dopo l'epifania con l'epifania con il lunedì che fa una piccola pausa in zona rossa quindi con tutte le precauzioni della zona rossa tutte le imposizioni anche della zona rossa poi andremo a vederle insieme effettivamente i dati abbiamo fatto qualche conto poi vi diciamo solo che ci sono stati 4.800 nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore insomma non è un dato proprio rassicurante per questa fine d'anno ci hanno segnalato anche alcune situazioni di punti tampone pronto soccorso un po' intasati da molta gente che magari esattamente una settimana fa a Natale si è permessa qualche come si può dire interruzione delle precauzioni delle attenzioni verso la situazione del coronavirus e quindi che qualcosa potrebbe essere successo che magari ci troveremo di fronte a qualche dato un po' un po' allarmante nelle prossime ore sentiamo se Gabriella Basso in collegamento in diretta adesso dal centro storico di Vicenza ci conferma questo trend oppure se a Vicenza le cose stanno andando in tutt'altro modo buongiorno Gabriella buongiorno Ferdinando buongiorno spettatori di Rata Veneta tu parli di tamponi diciamo che a Vicenza c'è ovviamente una crescita anche a Vicenza delle persone che si stanno recando per fare i tamponi rimane però la situazione del punto tamponi quello della fiera che è grandissimo e quindi non c'è non ci sono degli assembramenti ecco diciamo viene smaltito abbastanza dovremmo fare più che altro un giro per capire invece cosa succede per esempio nell'ovest vicentino dove sai che praticamente le sue misure sono molto più restrittive rispetto per esempio la città di Vicenza anche se da oggi è scattata la zona rossa per tutti quanti per tutta Italia quindi anche Vicenza e ti devo dire che questa zona rossa qui a Vicenza vede in realtà tanto movimento vedo tanta tanta gente in giro che passeggia fa gli ultimi acquisti perché ricordiamo che i negozi di alimentari per esempio o le gastronomie macellerie pescherie sono ovviamente tutte aperte anche fino a orari insomma fino anche alle 18 e 30 quindi fino diciamo così all'ultimo puoi poter fare gli ultimi acquisti per il cenone di Capodanno e poi magari per il pranzo del primo dell'anno rigorosamente ci dicono almeno le persone che abbiamo sentito in famiglia Gabriella c'è appena arrivato il riepilogo generale dell'Ulss 8 poi magari questa sera lo vediamo meglio nel Tg Vicenza casi positivi ci risulta rispetto a ieri nell'area dell'Ulss 8 toberica 445 in più con 447 447 ecco meno 11 ricoveri quindi arrivano anche buone notizie di cui vediamo terapie intensive inalterate sono da segnalare comunque 6 decessi sempre con la massima attenzione con la massima possiamo dire delicatezza rispetto anche al dato dei decessi perché noi parliamo di numeri ma sono sempre famiglie che hanno dei drammi e persone che se ne vanno e quindi dovremmo fare i conti prima o poi anche dal punto di vista emotivo con tutto questo siamo in media o c'è un abbassamento? Allora siamo decisamente in media soprattutto sai cos'è come già ci spiegavano anche le altre volte è proprio veramente altalenante sono dati e numeri altalenanti ci sono dei giorni dei momenti che c'è un balzo in avanti e il numero di tamponi è sempre bene o male quello che viene fatto a parte quando c'è il fine settimana che sai che ne vengono fatti effettivamente meno però generalmente il numero di tamponi è quello e la media è tra i 300 e i 400 positivi per quanto riguarda i morti anche lì siamo sempre nella media con qualche balzo per dirti in settimana ci sono stati anche 15 morti dal fine settimana scorso ce ne hanno stati 23 quindi diciamo che siamo nella media del dato che emerge però è quello piuttosto che i reparti dedicati al covid non vedono per il momento in questi giorni grandi ricoveri anzi ci sono anche persone che vengono dimesse poi ci spiegavano per esempio che magari si trova una persona c'è un aumento in terapia intensiva ma non è che sia magari una nuova persona un nuovo positivo che va in terapia intensiva ma magari all'aggravarsi purtroppo di una persona che era fino all'altro giorno in medicina e viene portato velocemente in terapia intensiva o magari ha il casco di ossigeno e si aggrava quindi sono numeri sempre che andrebbero molto analizzati nello specifico nei casi presi così danno un dato un quadro generale ma ovviamente dovrebbe essere calato in maniera specifica ecco certo Gabriella Vicenza sempre moltissime notizie di cronaca come vediamo anche dal nostro Tg Vicenza è successo qualcosa nelle ultime ore ci sono notizie via di evoluzione per il Tg di questa sera guarda questa mattina subito alle 7.53 per l'esattezza c'è stata una fuoriuscita autonoma perché qua a Vicenza c'è ancora non so se si riesce a vedere c'è ancora un po' di neve per terra sì vediamo un po' di sia in città ma anche in tutta la campagna e il freddo in questo momento sono due gradi il freddo ha creato questo strato lieve di ghiaccio e quindi questa mattina per esempio in tangenziale in direzione Milano la tangenziale di Vicenza corre a fianco all'autostrada a 4 serenissima una macchina c'è stata una fuoriuscita autonoma si è schiantata è uscita appunto proprio di carreggiata e due persone sono rimaste ferite la tangenziale però per il recupero dei mezzi e tutto quanto è rimasta chiusa per diverse ore disagi relativi perché il traffico proprio a causa della zona rossa questo semi lockdown ha fatto sì che ci sia poco traffico sia nella tangenziale che sull'autostrada insomma poco traffico in strada ma un notevole traffico alle tue spalle dove siamo esattamente Gabriella alle tue spalle cosa c'è? ecco qui siamo in piazza Duomo dietro alle mie spalle dove c'è un piccolo mercato di beni alimentari quindi sono i due banchi del pesce c'è quello del formaggio c'è la rosticceria ci sono i banchi della frutta e della verdura dove appunto la gente si sta recando per prendere proprio le ultime cose fresche per questa sera ma ti assicuro che anche le gastronomie e le macellerie sono non dico prese d'assalto è un termine molto forte dire prese d'assalto ma sicuramente causa anche gli spazi vedono code abbastanza lunghe c'è addirittura che si è organizzato con due possibilità cioè nel senso di poter prendere il numero per la spesa appena prenotata e il numero per fare la spesa ex novo con quindi due percorsi sì sì c'è stata un parecchio organizzazione devo dire Gabriella ti faccio una domanda che esola un po' dal contesto dei mercati non so se tu hai la risposta oppure se l'avremo nei prossimi giorni la ristorazione invece quella quella dei ristoranti delle trattorie delle osterie che aspettavano questo Natale per rimettersi in piedi che invece si sono trovate in una zona rossa arancione che ha tagliato le gambe di più anche a quelli che hanno potuto fare comunque o che faranno take away consegna a casa asporto magari per stasera però un cenone una cosa è avere qualche decina di cenoni da asporto una cosa invece è avere il locale pieno di persone che vengono a festeggiare qual è la situazione a Vicenza? Allora la situazione a Vicenza è che appunto c'è chi diciamo ha deciso comunque di organizzarsi che era già partito con il primo lockdown con il delivery e magari sta cercando comunque di dare una risposta a quelli che sono i clienti mai più affezionati perché c'è anche chi preferisce non cucinare visto la situazione ma sono in due marito e moglie prendere qualcosa già di pronto e quindi c'è qualcosa decisamente però non è si sente la difficoltà c'è molta preoccupazione c'è anche molta rabbia perché comunque in questo momento nonostante ci sono diversi negozi che hanno potuto aprire i ristoranti come i bar sono stati quelli più penalizzati chiaramente e c'è chi proprio ha deciso anche di non fare il delivery perché detta proprio con un detto il gioco non vale la candela le spese anche se tu rimani aperto ma le spese sono tante è un conto essere organizzati da prima è un conto aver fatto male sempre il delivery in qualche modo è un conto riorganizzare tutto adesso così insomma non è non è semplice e non tutti l'hanno voluto fare ma c'è abbastanza addirittura già nel momento in cui è stato detto che sarebbe iniziata questi giorni con la zona rossa tanti che avevano prenotato per il cenone per esempio o comunque per il pranzo di Natale hanno disdette c'è stata una valanga di disdette i ristoranti di Vicenza insomma quindi la situazione per quanto riguarda questo settore è molto molto difficile e adesso se poi si andrà addirittura se si rimarrà in zona arancione credo che sarà ancora più complicato comprendiamo è un tema che abbiamo che abbiamo seguito anche noi che tutte le province tutte le nostre redazioni hanno seguito vedremo poi cosa succederà con la riapertura speriamo perché si parla di una zona arancione dato l'RT del Veneto speriamo di non dover passare dalla zona rossa alla zona arancione per un lungo periodo perché sarebbe una spallata davvero molto forte non solo per la ristorazione per tutti anche un po' per il morale quindi Gabriella intanto grazie di queste informazioni tutto il resto lo vediamo nel Tg Vicenza di questa sera e naturalmente approfittiamo per fare gli auguri anche alla nostra redazione vicentina di buona fine buon inizio grazie auguri anche a voi e buona continuazione torniamo in studio quindi avete visto una Vicenza molto vivace perché negozi se non presi d'assalto soprattutto quelli di categorie sappiamo che possono restare aperte quindi soprattutto il cibo il food la macelleria i piccoli i piccoli mercati tra l'altro ci giunge una notizia che riguarda lo spostamento dell'attenzione delle persone verso un vecchio sistema di vendita che è quello dei cosiddetti casuini che il casuin è il vecchio negozio che ha un po' di tutto alcuni si sono evoluti verso negozi di lusso quasi dove si può trovare dal salmone ad altri prodotti formaggi esteri un po' di tutto ma al piccolo casuin di quartiere quello sotto casa dove si scende non più per fare la spesa di tutta la settimana ma magari si scende quasi tutti i giorni per comprare letto di prosciutto il pezzo di formaggio quello che può servire per il giorno o per i due giorni quindi vedremo poi se alla fine di tutta questa grande situazione di cambiamento torneremo ai vecchi stili di vita o continueremo poi ad andare avanti con quelli che abbiamo acquisito nel periodo detto questo viste le notizie da Vicenza noi facciamo una brevissima pausa state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo buongiorno bentornati al nostro focus tg l'ultimo giorno dell'anno l'ultimo focus tg di questo 2020 abbiamo sentito notizie sul meteo notizie sull'emergenza coronavirus vaccini tamponi notizie da Vicenza che riguardano comunque un po' l'emergenza coronavirus ma che ci fanno vedere una città ancora molto affezionata ai propri riti quindi anche a quello dei festeggiamenti di fine d'anno tutti in famiglia secondo le prescrizioni di questi giorni però tutti con la tavola ben imbandita ci ha fatto sapere la nostra Gabriella Basso della redazione di Vicenza che i mercati i negozi di alimentari hanno le file fuori dalla porta di persone che stanno facendo la spesa per questa sera naturalmente anche per domani quindi vuol dire che c'è voglia di stare in casa c'è voglia di stare assieme qualcuno sicuramente farà di necessità virtù magari soprattutto i più giovani che aspettavano questo giorno per uscire per fare un po' di festa fuori dalle mura domestiche e invece dovranno accontentarsi di qualcosa di diverso adesso andiamo se il nostro Guido Barbato ci fa un cenno di assenso noi andiamo a sentire quali sono le novità da Padova però prima di andare da lui ecco Guido se riusciamo ad alzare di qualche millimetro la telecamera del telefono perché hai la testa la testa tagliata e magari insomma puoi impressionare qualche telespettatore un po' di più vi chiediamo scusa ma siamo qui è tutto espresso tutto in diretta allora comunque facciamo il collegamento sentiamo quali sono le novità Padovane Guido buongiorno abbiamo tentato di sistemare ma dicevo i nostri telespettatori siamo in diretta il bello della diretta è anche questo modo di fare molto espresso con le nostre redazioni quindi a volte capita che il collegamento abbia un un referente un po' tagliato sulla parte sommitale della zucca Guido buongiorno buongiorno a tutti benvenuti e ben collegati con la redazione di Padova vi stavamo appunto aggiornando un po' stavo raccogliendo le notizie anche in questi momenti forse anche per questo motivo l'inquadratura non era così precisa perché in queste ultime ore insomma si è venuti a sapere che la questura intensificherà i controlli nella giornata odierna per questo san silvestro così strano presidiando anche sembra non solo con le volanti ma anche con le camionette del reparto accelere le piazze e poi indagando attraverso i social network perché si evitino feste non autorizzate dell'ultimo dell'anno nelle abitazioni in quantità insomma di persone fuori da quanto previsto quindi insomma questo almeno ha riferito il questore o la questora come vogliamo dire Isabella Fusiello anche ai giornalisti in questa giornata di San Silvestro il 31 dicembre coincide anche con il secondo giorno di vaccinazioni in provincia di Padova nelle unità della ULS6 e Ugania in particolare nelle prime case di riposo saranno tre le case di riposo a partire da quella di Ponte Longo che al momento risulta fortunatamente covid free qui ospiti e operatori riceveranno il vaccino poi le dosi verranno somministrate anche negli ospedali della provincia in tutti quelli insomma che conosciamo Schiavonia Cittadella Camposampiero Piove di Sacco e anche nell'ospedale di comunità di Montagnana tre appunto le case di riposo gli anziani come come detto domani pausa si riprenderà con le vaccinazioni sabato 2 gennaio in questo c'è restando in tema di sanità c'è molta preoccupazione nell'alta padovana per degli spostamenti di operativi che riguarderebbero la cardiologia dell'ospedale Cosma di Camposampiero molti pazienti vengono dirottati direttamente a Cittadella nonostante l'ospedale Cosma non sia esattamente un ospedale specializzato oppure o dedicato alla problematica del covid stiamo mettendoci in contatto con la signora sindaco di Camposampiero Cattia Maccarrone per saperne di più cioè per capire esattamente che cosa stia succedendo e anche con la ULS6 Eugania se si tratta di come speriamo una manovra temporanea in vista di recuperare spazi insomma questo è quello che principalmente ci sembra che ci auguriamo sia davvero così vista anche la molta utilità l'utilità è anche il pregio che ha tutta la la sezione se si può dire così insomma la parte rivelativa alla cardiochirurgia nell'ospedale di Camposampiero vi faremo sapere sicuramente qualcosa di più nelle nostre edizioni nella sezione serale del nostro telegiornale molto bene Guido un'altra un'altra domanda su Padova di solito si fanno arrivano gli auguri di fine d'anno dei sindaci delle autorità ha detto qualcosa di particolare Giordani nei suoi auguri di fine d'anno certo Giordani un po' forse non solo da sindaco ma forse anche da padre di famiglia ha esordito e potrete ascoltare meglio stasera i suoi auguri dicendo è in arrivo il vaccino e io mi vaccinerò senza se e senza ma quindi affidandosi anche lui in maniera totale alla scienza alla scienza internazionale molto bene Guido l'ultima domanda poi vi lasciamo lavorare perché sono giorni in cui stiamo confezionando i tg di fine anno poi naturalmente anche il materiale per i prossimi giorni in vista di questa epifania che sappiamo in molte zone sarà senza pannevin sappiamo che anche i provvizi di Padova salteranno praticamente tutte le manifestazioni di questo tipo i cosiddetti i faloi i bugnei dipendono vari nomi a seconda della zona per esempio dalle tue parti come si chiamano Guido ma si chiamano falò della Befana io sto in periferia di Padova comunque c'era una manifestazione molto bella molto seguita quest'anno non si terrà il prato della valle nemmeno credo lo chiamano il falò della Befana in maniera forse più cittadina mi pare che quest'anno non ci sarà niente di che niente pira niente è una di quelle cose che a seconda della geografia linguistica di questo nostro Veneto cambia nome anche pochi chilometri di distanza quindi per quest'anno possiamo già dire che sarà un'epifania un po' più triste sotto questo versante allora Guido grazie mille di questo collegamento tutto il resto lo vediamo nei telegiornali dei nostri emittenti di questa sera buona giornata e buon anno anche alla nostra redazione di Padova grazie attrettanto a voi torniamo in studio avete sentito Padova il tema portante di Padova e della provincia resta comunque quello dell'emergenza coronavirus dei vaccini lo stesso sindaco di Padova Giordani dice io mi vaccino punto stop senza se e senza ma per dare una speranza al nuovo anno poi sicuramente nelle prossime ore arriveranno anche altri messaggi di fine anno di amministratori politici personalità siamo certi che in gran parte andranno in questa direzione ovvero quella di si auguri per il prossimo anno un sunto un po' di quello che si può salvare di quest'anno e soprattutto un augurio che gran parte della popolazione arrivi a scegliere di vaccinarsi anche perché ci arriva un'ansa proprio ora nella quale si dice un'ansa nazionale nella quale si dice che bisognerà raggiungere una copertura del 70% della popolazione per raggiungere l'immunità di gregge tale effetto si vedrà poco a poco nel corso dei mesi e a medio termine nel frattempo c'è un motivo in più per mantenere comportamenti prudenti lo dice il direttore della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia quindi si parlava del 65% la quota è stata innalzata al 70% forse anche un po' per passateci il termine per invogliare qualcuno in più a farsi vaccinare perché solo così si arriverà all'immunità di gregge sarebbe comunque già un ottimo risultato arrivare al 65% preventivato qualche settimana fa visto che parliamo di dati sono arrivati poco fa gli ultimi dati veneti dell'emergenza di solito li dà il governatore Luca Zaia stavolta ci sostituiamo umilmente al presidente della regione per fornirvi quelli che sono i dati di oggi allora a questa mattina ultimo giorno dell'anno alle 8 c'erano in Veneto 91.073 persone positive al coronavirus sono 2.433 in più rispetto all'ultima rilevazione che è quella di ieri sera il totale delle persone positive dall'inizio dell'emergenza ingrandiamo un po' questa questa pagina è 253.875 allora il conteggio dei nuovi casi da ieri nelle ultime 24 ore è di 4.800 ed è un dato non proprio esaltante ecco perché quello dei nuovi contagi è un dato che purtroppo resta molto alto negli ultimi giorni si tratta nella quasi totalità di asintomatici vuol dire che il virus circola ancora le persone che hanno perso la vita dall'inizio del coronavirus dell'emergenza sono 6.539 a conti fatti sono 129 in più nelle 24 ore quindi da ieri mattina hanno perso la vita in Veneto con il coronavirus 129 persone le persone che si sono negativizzate sono 156.263 scendiamo nella seconda parte della tabella che è molto importante forse la più importante di tutte perché ci fa vedere la situazione della sanità veneta fotografata questa mattina alle ore 8 allora eccoli qua sono 3033 le persone ricoverate in area non critica ovvero hanno bisogno di cure ma non sono in terapia intensiva di queste 2698 sono ancora positive al coronavirus 335 invece si sono negativizzate 394 le terapie intensive impegnate di cui 361 con persone ancora positive e 33 con persone che si sono nel frattempo negativizzate questo è il bilancio negli ospedali il fatto che sia negativo è di grandissima importanza addirittura vedete questo meno 7 è un numero minore rispetto a quello degli ultimi giorni si è vista una decrescita anche notevole in alcune situazioni dei ricoverati in area non critica e si comincia a vedere anche un calo nelle terapie intensive anche se il calo nelle terapie intensive è molto molto più lento rispetto a quello dell'area non critica però già questo meno 7 meno 4 può far ben sperare per il proseguio sempre che e questo purtroppo non possiamo dirlo in questo momento non stia arrivando una mini ondata relativa a quello che è successo durante il giorno di Natale la vigilia magari qualche comportamento non del tutto appropriato da parte di qualcuno che abbia portato a qualche caso ci segnalano alcune situazioni protossocorso punti tampone un po' presi d'assalto da persone che hanno vicino che hanno incontrato che sono state a contatto qualcuno o che hanno incontrato in quei giorni qualcuno che poi è risultato essere positivo quindi qualcosa forse è successo e anche il fatto che abbiamo 4800 nuovi casi nelle 24 ore insomma qualcosa vuol dire delta decessi ovvero le persone che hanno perso la vita con il coronavirus negli ospedali e nelle strutture extra ospedali dell'Evento sono 23 questi sono i dati di questa mattina gli ultimi dati dell'anno gli ultimi dati del 2020 per l'emergenza coronavirus li vedremo insieme questa sera nel Tg Bassano nel Tg Vicenza di Rete Veneta per poter commentare proprio le ultime notizie di cronaca le ultime notizie riguardanti l'emergenza coronavirus le ultime notizie in generale di questo 2020 poi dopo la nostra informazione andrà in onda un'intervista esclusiva con il governatore del Veneto Luca Zaia che farà il punto di quest'anno un po' particolare domani durante la fascia di formazione del Tg Focus di pranzo il primo dell'anno riproporremo in integrale e in esclusiva tutta l'intervista a Luca Zaia grazie per essere stati con noi ci rivediamo questa sera con i nostri telegiornali buona giornata grazie per la visione